eccomi di nuovo per due chiacchiere sul caffè con delonghi vi parlerò di specie arabica i cui chicchi sono piatti ed allungati e di specie robusta dai chicchi tondi l'arabica è profumata e piacevolmente acida la robusta amare corposa e anche molto ricca di caffeina data la durezza del chicco vi suggerisco di macinare l'arabica al grado 4 4 e mezzo di eletta e scegliete eccellenze come guatemala terre alte di wewe tenango presidio slow food